Io sono stato una decina di giorni, sono rimasto solo, il mio compagno non l'ho più visto. Ero lì in quella zona lì della Tana dove era stato, lì dove c'era quella mia cugina e mangiavo un po' in una casa, un po' in un'altra, qualche volta mi portava mio fratello piccolo mi portava un po' da mangiare di nascosto, però era pericoloso. Sono stato una decina di giorni come un cane randaggio da solo, dormivo in un rifugio lì in località Tana dove una famiglia si era fatto un buco per quando c'erano gli allarmi aerei si buttavano lì dentro, quando non c'era l'allarme andavo a dormire lì dentro, oppure dormivo in una baracca di quella mia cugina che mi aveva già ospitato. Alla vigilia di Natale, dato che mio nonno si chiamava Natale, era venuta mia mamma che ci trovavamo di nascosto, mi dice vieni a casa, festeggiamo il nonno che ci tiene una cosa mi ha detto guarda abbiamo preparato tutto, stavo al quinto piano di via Diaz, all'ultimo piano tutto un giro c'erano quelle terrazze, terrazzette con i muri e confinavano con una tramezza di cimento con le altre famiglie. Mi sono messo d'accordo mi ha detto con la De Grossi che tra l'altro qui è morto, un suo fratello è morto nella lotta partigiana, che lavorava, mia mamma lavorava in fabbrica, nella vacuum oil company e il marito di questa De Grossi lavorava con lui. Si era messo d'accordo che in caso di allarme io salivo sul cornicione andavo in casa loro. Mentre andavamo a casa passiamo dalla via, dalla croce rossa di Vado via Diaz, arrivano due carabinieri, c'era un appuntato e un carabiniero, ci dica mia mamma guarda che io sparo, non farlo scemo sta ferma, non succede niente, sta tranquillo. Quell'appuntato lì dei carabinieri quando erano obbligati ad andare a cercare in casa, periodicamente andavano nelle famiglie dei latitanti, avvisavano le famiglie, lui, questo appuntato, avvisava dicendo guardate che uno di questi giorni veniamo a farvi visita, se avete i familiari in casa che sono, fateli andare via. E di fatti quando sono venuti incontro io tenevo la mano lì, non sapevo neanche io cosa fare, è passato, ha salutato militarmente mia mamma, io l'ho guardato con la corda nell'occhio e è andata così, questo era uno dei carabinieri, appuntato dei carabinieri che avvisava le famiglie. Quando sono stato su, è passata la prima notte, all'indomani mattina sentiamo suonare il campanello, mia mamma mi fa la storia qua di festa, salto, vado nella terrazzetta, passo, salgo sul cornicione che era largo così che serviva anche da grondaia, vado di là nell'altra famiglia, però non ho bussato i vetri, mi sono accovacciato lì nell'angolo, lì in terra. Dopo un po' mi viene a chiamare mia mamma, vieni che non c'è nessun pericolo, salgo sul cornicione per ritornare in casa, io ho guardato giù, erano alti, stai con i cinque piani, sono andato, dovina un po' chi c'era, è una cosa incredibile, la vicina di casa era venuta a fare gli auguri, no, il giorno dopo addirittura, no, era venuta fare, era la sorella di quello che poi diventava il mio comandante, noce, parlo di Giobatta e noce, comandante, era sua sorella che io non, la conoscevo lei, parlo di suo fratello, l'ho conosciuto quando è stato formato nel Calcagno, sono stato lì, poi sono andato via e sono ritornato al mio pellegrinaggio, dopo qualche giorno vedo Ernesto Di Marco, Nanni Di Marco, Nanni Gino Di Marco, Vincenzo Pes, che erano venuti a cercarsi, insomma, che siamo tornati su, noi tre, siamo tornati su, sopra il teccio del Tassè, c'era una grotta che non ci stavi neanche in piedi, siamo stati lì due mesi e mezzo, si era giunto a noi, che poi ha preso il nome di Sambuco, era un sardo che si era trovato all'8 settembre, era qui nella zona, c'è stato lo spascio dell'esercito, era stato in una famiglia lì a Montagna, a località Montagna, quando ha saputo, tramite Ernesto che aveva la famiglia sfollata, è venuto su con noi, così siamo diventati quattro.